Con sei corsi mascherati sulla passeggiata a mare, veglioni e feste rionali, torna dal 1 al 25 febbraio il Carnevale di Viareggio, la storica manifestazione che compie 147 anni e trasforma per un mese la città. Anche per questa edizione gli artisti della Cartapesta racconteranno attraverso le loro gigantesche opere i grandi temi della società contemporanea. Sui carri troviamo così Greta Thunberg e la sua battaglia ambientale per salvare la terra, ma anche il pericolo dei social network, l'avanzata economica della Cina, la lotta all'omofobia. C'è tutta l'attualità, c'è la natura che la fa da padrone, sia la flora che la fauna, la paura che abbiamo della distruzione del mondo, ma è un richiamo gioioso alla responsabilità. Poi abbiamo anche temi molto positivi, abbiamo l'amore, abbiamo gli abbracci, insomma abbiamo i miti. La politica c'è, non ha quel primo piano che negli anni 60 o 70 il Carnevale di Viareggio aveva, però io dico che il Carnevale di Viareggio fa politica anche senza, fa politiche anche senza mostrare le facce dei politici, perché racconta storie e i bisogni della nuova società, dei giovani e di un mondo migliore. Sono sei le occasioni di ammirare i giganti di cartapesta. Si parte sabato 1 febbraio alle 17 con il primo corso con spettacolo pirotecnico e si chiude con il gran finale del martedì grasso, il 25 febbraio, sempre con i fuochi d'artificio, ma non finisce qui. Viareggio si animerà per tutto il mese con i rioni, le grandi feste all'aperto nei quartieri. Da non perdere il Carnevale d'Arsena che compie 50 anni e festeggia con cinque serate di divertimento e musica, un'occasione per scoprire la Versilia fuori stagione. È un evento che segna in maniera determinante una stagione, tra l'altro mette al centro Viareggio e la Versilia nell'inverno e quindi premia anche quella promozione che sollecita una visita, un viaggio nella nostra costa toscana durante l'inverno, ma è importante per la sua storia, per quello che rappresenta durante tutto il corso dell'anno. È un evento culturale e artistico insieme perché mette in mostra una creatività che ormai si è consolidata e che ci è riconosciuta. I maestri operano durante tutto l'anno, lo fanno con un patrimonio ormai di conoscenza che di per sé già una storia.